Lei ci spera tantissimo ed è super entusiasta, anche se non sembrerebbe, ma fidatevi, la sua è solo timidezza. Mi chiamo Rita Martina, sono di Palermo e ho 21 anni. Cioè il mio nome è Rita Martina, è tutto unito, non è con la virgola. Nella vita vorrei fare la dokesit. Ma sinceramente le mie giornate ora sono andare a scuola guida, l'unica cosa che spero è di prendermi la patente. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie. Sono Alessandro. Piacere, Rita. Rita, ciao. Ciao. A dove arriva Rita? Da Palermo. Ah, siciliana, che bello. Sì. E' un po' emozionata? Ma no, non tanto. Beh, io sono singola, per far ridere dico da una vita. Mi attendo un attimo. Ok. Non lo so perché sono singola, forse nessuno mi vuole. Io l'accompagno al bar, si prende un aperitivo, va bene. Io sono una ragazza che i maschi io non li guardo, che dovrebbe essere lui che deve avere interesse, non tanto io. Ma il ragazzo non è venuto. Si metta qui. E il ragazzo arriverà, sta arrivando. Quindi questo per me è la prima esperienza. Lo aiuto a salire, prego. Un po' anche la sedia, ma comunque. Non sono mai uscita tipo con uno estraneo. Io quando mi vedo allo specchio ci tengo. Tipo quando ho i capelli puliti, non mi piacciono che me li tocchino. Insomma, ho delle mie pippe, cioè delle fissazioni. Buonasera. Buonasera. Mi riesci un cocktail o un calice di bollicine? No, sinceramente un bicchiere d'acqua. Ci mancherebbe. Come si chiama lei? Rita. Da dove viene? Da Palermo. Ah, che bello. Io vado pazzo per la cucina siciliana. Arancino. Non si chiama Arancino, si chiama Arancina. Sbaglio, confondo sempre questa cosa io. E neanche parla di riso. Però non abbiamo la meusa per farla sentire a casa. No, no, ma io quello non lo voglio perché sono a dieta. Vabbè, in palestra ci vado perché ci devo andare. Ho perso 13 chili. Come se lo immagina questo ragazzo questa sera? Ma non lo so, carino. A me piacciono i ragazzi con gli occhi azzurri, gli occhi verdi. Mi piace un po' palestrato, nel senso a me piace. Ah, pure palestrati? Sì, ma non tanto. Su. Che abbiano, insomma, un fisico presentabile. Non tipo quelli che hanno la panza. Non mi piacciono. Si goda il suo primo appuntamento, allora. Con chi devo parlare? Con la serie? No. Adesso arriva. Sono Alessio, ho 23 anni, vengo da Perugia. Diciamo che nella mia vita al momento sono disoccupato. I lavori che ho fatti in precedenza sono andati a finire non bene. A me piace molto il calcio, il tifo una squadra del cuore. Esplode di gioia quando segna. Però se segna l'1-0, tipo al novantesimo, pandemonio. Sono un ragazzo determinato, una persona troppo buona, troppo buona. Buonasera. Buonasera. Sono Alessandro, si accomodi. Piacere, Alessio. Bella rosa. Alessio, sempre un gesto da gentleman. Certo. Mi immagino una ragazza carina, con i capelli lunghi, un po' in carne. C'è qualcuno che la sta aspettando, mi seguo al bar. Certo. Che ha magari delle fossette. A me mi piace, oppure con gli occhiali. Ciao. Ciao. Questa è per te. Grazie mille. Piacere, Alessio. Piacere, Rita. È il mio primo appuntamento e non mi è mai capitato di fare appuntamenti. Vuoi qualcosa? Sì, preferirei un analcolico, un bicchiere d'acqua. Ok. Siccome sono una persona molto ansiosa, io ho paura di tutto. Di dove sei? Di Perugia, te? Io sono di Palermo. Ah. Ma lavori? No, al momento no. Sto cercando, sperando che esca qualcosa, però purtroppo al momento no. A me piacerebbe un ragazzo che lavori, cioè che abbia una sua indipendenza. E vivi da solo? No, vivo in famiglia con mia mamma e mio papà. Una sorella. Ah, che bello. Anch'io abito a casa dei miei. Giusto. Mia madre guida, mio padre no. Prende i mezzi. Farò delle domande, perché mi sembra anche lecito capire dall'altra parte. Tutti e due patentati, i tuoi? Mia madre e mio padre. Ah, ecco. Povero il ragazzo che vorrà. Si è legato ai nonni. Ai nonni soprattutto. Con i nonni materni ci sono molto più attaccato. Eh, va a finire sempre così. A me mi piace molto ascoltare l'altra persona. Proverei a conoscerla. Grazie. E questa è l'insalata per questa splendida signorina. Grazie. Da piccolo un po' ero timido. Ero trattato un po'... No, ho trattato male, ma messo da parte. La tua infanzia com'è stata? Prima dici tu. Io sì, ho sofferto perché comunque sia ci sono state diverse persone che comunque sia quando ho fatto tra alimentari, medi e superiori, mi prendevano in giro. Quando mi capitavano episodi che venivo escluso, io comunque sia mi aggrappavo sempre alla mia forza e riuscivo ad andare avanti. Comunque io sono cardiopatica. Ah, ok. Praticamente mia mamma, a me era in gravidanza, fino a sette mesi andava bene. C'ho questo problema al cuore. Poi all'ottavo mese c'è stata, insomma, non lo so, una complicazione e quindi non mi posso affaticare tanto. C'ho solo la orta e la bicuspide, quindi il cuore non lavora per come dovrebbe lavorare. Certo, non è stata tanto felicissima perché non potevo correre, perché mi stancavo. Ok, certo. Avendo avuto sempre questo problema, ecco, mi ha condizionato tanto. Ok. È buono quel piatto? Sì. Eh certo, è un po' invitante. Sì. Eh certo. Sì. Grazie a tutti.